È stata un'esperienza molto intensa, c'era tanto bisogno di aiuto, di supporto, sia dal punto di vista logistico, sia proprio di mani che concretamente facessero qualcosa, di rimettere a posto le stanze, di preparare cibo, di riuscire anche a aiutare queste persone a trovare un'accoglienza in questa città dove eravamo. Noi eravamo a Sigetu Marmatiei, al confine tra Romania e Ucraina, ed è un punto di snodo importante perché tutti i giorni arrivano più o meno un migliaio di persone dall'Ucraina. Che cosa avete fatto in questa settimana, in che modo avete dato il vostro contributo? Ci è stato affidato il compito di fare da trasporto dal confine, dalla frontiera alla struttura di accoglienza e portare anche le persone che avevano trovato poi in altri appoggi in Europa o in Romania nei punti di snodo dove parenti o amici li avrebbero poi presi, quindi la stazione piuttosto che altri paesi vicini. Quali sono anche le esigenze della popolazione lì e che cosa vi hanno raccontato anche le persone che avete incontrato? Le persone finché non ci costruisce un rapporto personale raramente hanno voglia di parlare di quello che hanno vissuto. Con le sei che abbiamo portato in Italia c'è stato anche uno scambio intenso a un certo punto perché si era attivata una confidenza. Alcune persone scappano dalla guerra, dalla guerra perché l'avevano vissuta concretamente, altre scappano dalla paura che possa arrivare nelle loro case, nelle loro città. Alcune persone vivono traumi profondi perché si sono trovate a stretto contatto con la violenza, con la morte. Altre subiscono le conseguenze della guerra perché hanno paura per i propri cari, per i propri parenti, per i padri, per i figli che in questo momento sono impegnati nel combattimento o non hanno avuto ancora la possibilità di scappare. Alcune persone vivono